Il messaggio che vogliamo lanciare noi reumatologi è quello che bisogna puntare sulla medicina di prossimità, ma farlo realmente, perché le basi sicuramente ci sono, le progettualità sono state stese in vari documenti, ma all'atto pratico ancora abbiamo un'assistenza sanitaria reumatologica a Macchia di Leopardo. Dobbiamo invece potenziare il dialogo tra medici e medicina generale, lo specialista del territorio deve avere tutte le armi per poter diagnosticare e trattare precocemente il paziente. Dobbiamo far sì che l'ospedale ritorni ad essere un punto di riferimento per le acuzie e l'università il punto di riferimento per la ricerca. Noi chiediamo questo, il collegio si sta impegnando attivamente con varie iniziative affinché quelli che sono dei progetti sulla cronicità che sono stati ampiamente dibattuti da anni diventino finalmente una realtà.